Questa interpellanza ha l'obiettivo di capire le intenzioni della Giunta in merito al progetto di riqualificazione dell'autodromo e agli sforzi di mantenimento del Gran Premio d'Italia a Monza nel circuito di Monza. Faccio una breve storia degli ultimi mesi di quello che è successo. I fatti iniziali sono due, da un lato Eccleston che ha chiesto il raddoppio dell'importo del contratto per prolungare la permanenza della Formula 1 a Monza oltre il 2016, parliamo di un passaggio da 10 milioni di dollari a 20 milioni di dollari all'anno di contratto. Il secondo dato è la necessità di ristrutturazione dell'impianto di Monza che ad oggi non è più un impianto innovativo, moderno, all'avanguardia rispetto a tanti altri che si trovano in giro per il mondo. Allora questa situazione di necessità di esborso di denaro che non è nelle disponibilità della società che gestisce l'autodromo, la Sias, ha portato il Presidente Maroni a dichiarare alla disponibilità della Regione di investire 20 milioni di euro in questo progetto. A patto da un lato di entrare nella proprietà del parco di Monza, attualmente la proprietà dei comuni di Milano e di Monza e a patto che questo ingresso avvenga, esentasse sostanzialmente e ci sono in corso proprio in questi momenti, questi giorni, delle attività in tema di quello che si diceva prima per cercare di ottenere la defiscalizzazione di questo passaggio, di questo ingresso nella proprietà del parco di Monza da parte della Regione Lombardia. Ora qualche mese fa un giornalista ha chiesto al Presidente Maroni quale fosse la razza di questo investimento nel parco e nell'autodromo e la risposta è stata che la razza è perché ci tengo. Mi siano un po' poco per giustificare un esborso di 20 milioni di euro. Quindi sostanzialmente noi vorremmo capire quali sono le motivazioni vere che stanno alla base di questa decisione. si parla spesso di indotto. Io ho fatto una ricerca. I dati disponibili ad oggi sono quelli della Camera di Commercio di Monza. Si parla ogni anno di questi dati della Camera di Commercio. Nell'ultimo anno hanno parlato di 28,5 milioni di euro di indotto diretto e di un valore del brand del Gran Piemio d'Italia di 3,8 miliardi. Però queste sono delle stime previsionali. Sono sostanzialmente solo delle stime di carattere previsionale e non ci sono disponibili dei dati a consuntivo. E quindi, ripeto, per investire 20 milioni di euro di soldi pubblici a nostro giudizio conviene avere qualche dato un po' più certo e un po' più concreto. Anche perché parlando con tanti operatori del commercio a Monza e in Brianza, questi dati sembrano davvero molto sovrastimati. Lo stesso documento della Camera di Commercio afferma che la stragrande maggioranza dei turisti per il Gran Premio arriva dalla città, dalla provincia, dalla nostra regione e dalle regioni confinanti. Quindi è sostanzialmente un turismo bordi e fuggi che non lascia molto all'economia monzese e brianzola. Io non intendo schierare il Movimento 5 Stelle a favore o contro l'autodromo in questo momento. Non è questo il tema. A me prima è capire quali sono le motivazioni per questo investimento. Quindi le domande che faccio sono sostanzialmente di tre tipi. La prima è se Regione Lombardia ha a disposizione delle analisi e degli studi certi e approfonditi ricavate da elaborazioni di dati a consuntivo, quindi diverse di quelle della Camera di Commercio di Monza che giustificano un investimento di questo tipo, di 20 milioni di euro in questo progetto. La seconda domanda è capire se la Sias ha rilasciato un piano industriale di rilancio dell'autodromo, se è presente a Regione Lombardia a quanto ammonta questo piano. Si è parlato nei mesi scorsi di un piano di 70 milioni di euro triennale. e la terza domanda è capire bene che cosa ci vuole fare Regione con questi 20 milioni di euro, ammesso che entri nella proprietà e che ci sia la defiscalizzazione. Quindi che cosa vuole fare di preciso? Quanto vuole investire nell'autodromo? Quanto vuole investire nel parco? E se questa cifra deve intendersi come un attantum o come una prima tranche di un investimento spalmato negli anni? Grazie. Risponde all'interpellanza l'assessore Sala. Grazie, buongiorno. Rispondo per punti all'interpellanza. Sul punto numero uno, l'autodromo nazionale di Monza è stato ripetutamente considerato opera di interesse pubblico dalla Regione Lombardia. legge del 17 aprile 89, dell'8 agosto 94 e del 31 luglio 95 e numero 40. È definito impianto sportivo di interesse nazionale dall'articolo 17 del PTC del Parco Valle dell'Ambro che lo assogetta a disciplina mirata nel suo mantenimento in esercizio. È interesse specifico di Regione Lombardia e dei comuni proprietari che l'autodromo venga mantenuto in esercizio ed ospiti in manifestazioni di livello internazionale. Ciò sia per la funzione sociale che svolge, riconosciuta dalla legge regionale 24 aprile 2006 numero 8, sia per la sua rilevante incidenza sull'economia dei territori circostanti. Ricordiamo che in quell'area scientificamente il brand economico non solo più famoso è quello del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Risulta da diversi indagini oggettivamente realizzate. Ai punti 2 e 3 non risulta che sia stato presentato formalmente in Regione Lombardia alcun progetto di riqualificazione dell'autodromo di Monza. Saranno gli enti coinvolti, governo, Regione Lombardia e comuni di Milano e Monza, a definire le risorse necessarie nell'ambito di un accordo di programma, qualora siano garantite dallo Stato adeguate condizioni fiscali. Punto numero 4. Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza hanno avviato un percorso per valorizzare il Parco di Monza e gli immobili su di esso insistenti, incluso l'autodromo di Monza che per la sua storia contribuisce all'attività culturale, turistica ed economico di livello internazionale. Gli enti proprietari intendono creare un sistema virtuoso di sviluppo, nonché un punto di riferimento per investimenti, occupazione e sinergica attività economica in materia ambientale, turistica e sportiva, creando le condizioni necessarie al rinnovo del contratto dell'autodromo di Monza con la FOM, Formula One Management Limited, società che mantiene i diritti commerciali della Formula One. A tal fine saranno individuati gli strumenti necessari sotto un'unica regia, Master Plan, per garantire un'unitarietà di interventi nel parco al fine di promuovere una fruizione attenta e consapevole delle attività nel rispetto delle sue valenze storico-culturali, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche. Gli assetti proprietari dell'area interessata all'autodromo sono di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano. Parliamo di quel comparto che non riguarda Villa Reale e Giardini Reali. Per garantire all'autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia si intende creare un'unica proprietà indivisa in modo che tutte le istituzioni coinvolte pensino ad un progetto unitario capace di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale. Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quoti riguardanti il parco senza oneri per lo Stato. Allo Stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse possibili all'investimento stesso sul parco. Per questa ragione Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza hanno chiesto al Governo di poter garantire la neutralizzazione fiscale dell'operazione configurando la neutralità fiscale nel passaggio di proprietà tra istituzioni senza oneri per lo Stato. Significa che l'operazione di passaggio di proprietà in termini gratuiti se viene defiscalizzata entrerebbe Regione Lombardia nella proprietà indivisa insieme a Comune di Milano e Comune di Monza per cui si avvierebbe. Tutte le altre domande specifiche sull'iter e sulle azioni che si faranno saranno comprese all'interno di un accordo di programma che è la formula migliore messa in atto da Regione Lombardia con anche la dovuta trasparenza affinché tutti possano apprendere che cosa succede nell'iter. Il fatto che si debba spiegare e si debba sostenere in un'aula, in una loggia da cui deriva il termine lobby, sostenere che una norma di questo tipo è di neutralità fiscale e può incidere positivamente per il territorio della Brianza, per il territorio della Lombardia e anche per il territorio nazionale perché è un altro Gran Premio d'Italia, da altre parti abbiamo capito che non ci sarà se Monza lo perde. Se questa si voglia definire attività di lobby o attività dei parlamentari sul territorio e quant'altro definitela come volete. L'importante è che alla fine il risultato lo si porta a casa non tanto per se stessi perché questo secondo me è l'errore nelle discussioni di stamattina quanto per il territorio tutto Brianzolo, Lombardo e Nazionale. Grazie. Per la replica il consigliere Corbetta Parto dalle ultime parole dell'assessore. Siamo qua tutti per fare gli interessi del territorio siamo qua tutti per cercare di capire che cos'è la cosa migliore per il territorio che rappresentiamo io ho chiesto e non ho ricevuto una risposta su quali sono i dati che giustificano realmente questo investimento. Ho chiesto dei dati precisi sull'indotto a consuntivo e non mi sono stati forniti quindi deduco che non esistano in questo momento. Allora non mi sembra una cosa veramente intelligente spendere 20 milioni di euro senza avere delle reali certezze sull'indotto che sul territorio questo evento produce. Senza contare che parliamo di un piano industriale, notizie di stampa nei mesi scorsi di 70 milioni di euro, di un rinnovo contrattuale di 20 milioni di euro considerando che la SIA sa dei bilanci in pari vuol dire tirare fuori 10 milioni di euro in più all'anno, su base decennale vuol dire spendere 100 milioni e non si sa dove si trovano quindi nel complesso questa operazione potrebbe costare in 10 anni anche 170 milioni di euro quindi il rischio che io vedo è che questi 20 milioni di regione Lombardia siano solo l'inizio di un lungo calvario di finanziamenti per mantenere in vita questo progetto. Io quello che volevo oggi era uscire da questa interpellanza ed essere convinto che da parte vostra che 20 milioni di euro fossero effettivamente utili in questo progetto e fossero più utili per esempio che spenderlo in cultura, nella manutenzione del parco, nelle scuole, nella sanità, nel trasporto pubblico in forme di supporto della piccola e media impresa che siano diverse da queste che avete individuato. Io purtroppo non trovo un convincimento in questo e quindi mi dichiaro insoddisfatto della risposta. Grazie.